Abbonati a Nientix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. La famiglia Eremiti, l'unica famiglia che va d'accordo perché ogni membro vive su una montagna diversa. Comissario Auricchio, che facciamo? Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei? Herbie, un maggiolino tutto Banfi. Mi valisco che sei uno stronzone e sei pure Ricchione! Abbonati a Nientflix. Aia! Aia! Aiaiaiai! Batman vs. Cristo Eh no! Batman vs. Cristo Anche la ribattuta! Batman decide di costruire la Batcaverna nel Santo Sepolcro. Eh no! Una convivenza non facile. Eh no! E l'imperdibile serie. La bella addormentata nei Robinson. Anche gli angeli mangiano i funghetti. Allucinogeni in paradiso. Abbonati a Netflix. Aiaiaiai! Matrix finisce i giga e il mondo va a scatti. Il mondo va a scatti. Non posso parlare con il mio telefono, che non ho i gigi. Ciao, grazie. E' lui Matrix! A Nientflix. Aiaiaiai! Aiaiaiai! Calcia la vita, è anche più giù. Velo! Ma farò finta che è tutto ok. Tarzan sul petto di Piero Pelù. Aiaiaiai! 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 E l'imperdibile serie sui supermercati senza merce e sugli scaffali. Gandhi magazzini. No, vabbè, dai! Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix. Scusate! Abbonati a Netflix. Io ce l'ho con Gandhi. Perché? Non so perché. È perché è troppo pacifico, sta roba mi dà fastidio. Era, cioè, è morto da mezzo secolo. Sì, no, ma dico lui come personaggio, cioè, non trovi mai niente di negativo su quell'uomo. Beh, in realtà pare che picchiasse la moglie, eh. Picchiasse la moglie e i figli e fosse un fan di Hitler. Sì, però, amato. Sparasse in banda e mangiava anche carne di vecchio. Esagerato, quella bufala? Sì, sì. Ma mai, mai, mai e poi mai crudele come Paolo Noeschi ha dato l'ignorante al presidente della Fiat. Sì, sono veramente, guarda. Che ha sputato sulle foto delle moldave dicendo che sono tutte prostitute e ha picchiato un pupazzo del Papa. E smettila di cucinare quei cevapcici in onda. Aspetta, prima mi ti rischio di inchiappettare quest'animale in via di estinzione. Non è un animale, è Gorbaciov. Anche un cadavere mi fa, ciò, via. Bastardi Inside Life. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la OneApp, no? Bastardi, ho bisogno di uno sfogo. Ciuccia, ciuccia. Mazzoli, con tutte quelle pene che ti sei ficcato su per il culo, adesso puoi scrivere un libro. Tanto nessuno si potrà lamentare che è un libro di merda, tanto l'hai fatto col culo. Merda! Eh, ragazzi, tanto non lo metterete mai in onda questo audio, quindi ci posso anche smatt... ...mazzoli, tanto non lo metterete mai in onda questo audio. Cosa fa? Rivolta! Oh, ragazzi, i miei mi hanno beccato un po' di fumo in camera. E quando mi hanno fatto... Mi fanno, ma lo sai cosa succede a fumare questa roba? Io gli ho risposto, non succede niente! Ma scalzone, vorrei sapere qualsiasi problema del Veneto. Sì, siamo orgogliosi di parlare Veneto. È bello il dialetto. E ricordatevi che l'italiano lo parliamo molto bene, solo che noi stiamo bene così. Di... punto. Di... ne... virgola. Madonna... punto esclamativo. E no, benissimo. Ragazzi, ce l'ho io l'idea per il film di Leone. Facciamo il remake di Baried Sepolto. Cioè, ma realistico di brutto, deve essere lo seppegliamo vivo in Parco Sempione. Bello! Con un iPhone 5 e via, minchia, viene fuori un capolavoro. E Luca Alba è merda! Bravo! E Luca Alba è merda! E Luca Alba è merda! E Luca Alba è merda! Luca Alba è merda! Bravo, bellissimo! Sai che in Florida adesso possono vendere la marijuana, caro Paolo, lo sai, no? Potresti spedire qua la tua pianta. Guarda come si lecca i baffi. Il mio primo sponsor adesso è un negozio che vende marijuana. Questo è il paradiso terreno. Sarebbe il primo caso in cui una persona manda la pianta in ferie e chiede alla Filippina se può venire a innaffiare lui. Mandala, mandala Paolo! Cari ascoltatori, non fatevi strane opinioni su di noi. Ad esempio, il set completo di valigie di Louis Vuitton e l'orologio De Mar Piguet di Paolo Noyze sono dei tarocchi. No! Anche l'Audi R8 che a breve arriverà è finta. Eh sì, no! La carrozzeria è in vetro resina ed è montata su una Fiat 127 del 78. Diffidate dalle avvarenze. A dopo! Non c'è i soldi! Non c'è i soldi, lui poverino, non c'è i soldi. Non è che non abbiamo parlato della proprietà che l'ho appena acquisito. Tu sei l'unico che ha una 127 però paga il bollo per un Audi. Pensa quanto sei stronzo!